paok contro fcsb termina a 0 a 1 il paok perde lamorosamente parlando contro l'fcsb che riesce a giungere ad una strepitosa nonché incantevole vittoria per quanto riguarda l'fcsb il gol arriva pensate nel primo tempo chiamiamolo regolamentare ma sul recupero a far restato il buon daniel birligea che l'ha messa dentro da segnalare una un'espulsione per fcsb uscire dal gioco nel secondo tempo è stato infatti darius olavus olavu darius olavu infatti si prende un simpatico cartellino rosso quindi che porta l'espulsione di questo giuatore del fcsb le statistiche sono buone per il paok non buone riuverti per il fcsb molto più possesso di parare il paok molti più passaggi una precisione di passaggi molto più alta rispetto all'fcsb quindi avvento l'fcsb ma dal punto di vista statistico il paok fa molto meglio iscrivetevi se vi fa commentate una buona giornata a voi tutti grazie a tutti grazie a tutti